Non ci sta il presidente della Amenesba, Mauro Castelli, dopo il post pubblicato su Facebook che raccoglie la testimonianza di Bruno Ondo Meng, giocatore del Costone di Siena, dove si fa riferimento a episodi di razzismo. Il risveglio è stato amaro e il massimo dirigente della squadra di basket precisa quale sia la posizione della società di fronte a questo episodio. Siamo rimasti colpiti da questa cosa perché la nostra società ha dei valori completamente opposti a questo. La cosa che ha disturbato di più noi, è come una coltellata al cuore, è il fatto che non ci stiamo a questi titoloni, perché i fatti sono molto chiari. Nella nostra società in questo momento ci sono 350-400 ragazzi, di cui più di 100 sono di tutte le etnie di tutto il mondo. E la cosa importantissima è il fatto che quando la Tam Tam Basket di Castelvolturno, è la squadra famosa in tutto il mondo, è fatta di ragazzi, figli di immigrati. Noi siamo stati al loro fianco a combattere questa cosa. Per noi è una ferita troppo forte questa. Da Massimo Antonelli, fondatore della Tam Tam Basketball di Castelvolturno, giunge un plauso all'attività svolta dalla scuola basket Arezzo. Voi la parola razzismo non la conoscete proprio, anzi siete esattamente il contrario, siete proprio opere di inclusione. Quello che avete fatto per noi è la testimonianza. Ci avete ospitato gratuitamente a due tormei meravigliosi, che i ragazzi ricordano ancora, ma non solo le ragazze, anche noi coach. Come intenderete muovervi? La nostra risposta è continuare a lavorare in questo modo nel quotidiano, continuare con le nostre iniziative, perché la nostra risposta viene tutti i giorni. Non è un episodio che deve cambiare il nostro modo di lavorare, è quello che facciamo tutti i giorni e che vorremmo fare anche nelle prossime occasioni.